Ecco qua. Oggi è una giornata importantissima per il comune di Serrara Fontana perché siamo riusciti ad ottenere l'apertura di un presidio importantissimo per il nostro territorio, un presidio di sicurezza per i tanti turisti che affollano il nostro comune, un presidio soprattutto di legalità perché è importante muoversi nella legalità. È un lavoro che inizia già da un anno, un percorso a tratti anche non precisamente agevole ma grazie alla tenacia dell'amministrazione comunale che rappresento e dell'arma dei carabinieri e dell'aver compreso soprattutto da parte dell'arma dei carabinieri che questo territorio era un po' distante dalle stazioni di riferimento. In particolare il comune di Serrara Fontana fa riferimento alla stazione di Barano d'Ischia e quindi in alcuni momenti, soprattutto nel periodo estivo, era importante e necessario avere proprio in loco il controllo del territorio. E quindi con grande felicità oggi, con grande gioia, siamo qui con l'arma dei carabinieri e con tutte le forze dell'ordine a celebrare l'apertura di questo presidio. È doveroso da parte mia il ringraziamento intanto al comandante generale dell'arma dei carabinieri che ha firmato il provvedimento, poi a tutto l'operato del capitano di Ischia, che è il capitano Laganà, che veramente ha compreso tutte le motivazioni dell'amministrazione comunale e del comandante di stazione di Barano d'Ischia, il luogotenente Schiano. Oggi è effettivamente un giorno importante perché grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, che ovviamente ringrazio, di concerto con la scala gerarchica dal provinciale di Napoli, dal comando legione, fino ad arrivare all'interregionale e al comando generale, è stato possibile istituire questo nuovo presidio in una località particolare caratteristica a simbolizzare l'importanza e l'attenzione che anche l'arma dei carabinieri continua ad avere sul territorio dell'isola di Ischia e in particolare su quello di Sant'Angelo, che è effettivamente un borgo pedonale necessita di un presidio stagionale, prevalentemente nel periodo estivo, per garantire quelle che poi sono le caratteristiche proprie dell'arma dei carabinieri, ossia la prossimità e la capillarità e così facendo anche in questa circostanza riusciamo a garantire un ulteriore presidio che verrà ad essere aperto e quindi esprimere del personale sul territorio, prevalentemente nell'arco pomeridiano serale. Questo perché effettivamente questo posto fisso in località Sant'Angelo dipende ufficialmente dal comando stazione dei carabinieri di Barano, che ha una distanza effettiva di percorrenze anche chilometrica e pertanto si è ritenuto opportuno e necessario istituire questo presidio per garantire una maggiore sicurezza ai residenti ma anche ai turisti che vivono questo bellissimo borgo, questo bellissimo territorio e pertanto garantiremo tutti i giorni nel periodo estivo una pattuglia piedata nell'arco pomeridiano serale che potrà quindi pattugliare e garantire la sicurezza ma anche soltanto qualsiasi esigenza dovesse essersi necessaria nel borgo di Sant'Angelo. Con la possibilità, come giustamente diceva anche il sindaco, viene avviata in via sperimentale quest'anno ma sicuramente l'intenzione è quella di proseguire nella stagionalità anche negli anni a venire.